Sono continuate per tutta la giornata le operazioni di soccorso per danni e soccorsi dovuti al maltempo abbattutosi la scorsa notte nei territori di competenza dei comandi vigili del fuoco di Pordenone e Udine messi in sicurezza di tetti scoperchiati, cornicioni, tegole, camini, finestre, verande pericolanti o di velti, alberi e pali caduti o pericolanti. E nella notte soccorsi a persona sono le tipologie di intervento che hanno impegnato i vigili del fuoco Al comando di Pordenone sono stati eseguiti circa 130 interventi e una settantina sono quelli in attesa Al comando di Udine sono stati eseguiti fino alle 20, 180 interventi, quelli in coda, sono circa 470 ma per circa 270 la sala operativa del comando dei vigili del fuoco friulano deve risentire i richiedenti per verificare se intervento è ancora necessario Mentre andiamo in onda le operazioni stanno continuando nelle zone colpite dal maltempo Mentre andiamo in onda le operazioni stanno continuando Mentre andiamo in onda le operazioni stanno continuando